la vigilia di ferragosto guardate che spettacolo vedete che spettacolo bellissimo bellissimo uno spettacolo c'è anche il figlio a letto buona serata a tutti buongiorno siamo sempre il 15 agosto 2022 che bellezza spettacolo 2 mila vendedura spettacolo spettacolo pazzesco spettacolo ragazzi bellissimo è guardate che bomba uno spettacolo ragazzi una bomba spettacolo spettacolo siamo al 16 agosto 2022 guardate che bellezza Etna vedete che spettacolo bomboniere buongiorno siamo al 19 agosto 2022 guardate che spettacolo della natura guardate che spettacolo guardate qua c'è il capellino cercatore di funghi in Sicilia guardate un bel Etulis qua ce n'è un altro guardate che belle buona giornata domenica 28 agosto 2022 una bomba buongiorno ma sempre agosto 2022 guardate che bomba guardate che bomba impressionante ragazzi guardate che bomba Etna ma questo è qualcosa di spettacolare 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 sempre agosto 2022 buona sera buona sera siamo il 29 agosto 2022 dai qualcosina l'abbiamo fatta guardate che spettacolo Etna uno spettacolo tutti bei funghi tutti bei funghi tutti bei funghi guardate che bellezza agosto 2022 Etna che spettacolare che spettacolare che spettacolare che bellezza guardate che spettacolare 2022 guardate che spettacolare una meraviglia guardate che bellezza del letto Aereus Aereus buongiorno siamo il 4 settembre 2022 qualcosina l'abbiamo fatta sono le 9 del mattino le bombe e poi le altre bombe una buona giornata va bene va bene buonasera siamo il 7 settembre 2022 Etna guardate tutti questi rovinati questi tutti rovinati rovinati sono il 4 settembre sono il 4 settembre Buongiorno, siamo al 10 settembre 2020. Buongiorno, abbiamo trovato il fungo preso dal vento, però le bomboniere ci sono pure. Buona giornata a tutti, spettacolo! Buongiorno, siamo al 12 settembre 2022. Ragazzi guardate che bomba, madonna mia! Etta, ragazzi, etta, etta, pazzesco! Una bomba, ragazzi, non solo per io! Che spettacolo! Che spettacolo! Che spettacolo! Una bomba! Che spettacolo! 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 Che spettacolo!